Siamo nel periodo dell'Avvento, domenica è la prima domenica che si è annunciata con il giudizio universale su cui saremo richiesti dell'amore che vogliamo. Io ho riflettuto questi giorni al rapporto dell'ONU che dice ogni minuto cinque donne vengono uccise nel mondo. Noi dobbiamo lottare per il principio del valore della donna che lei stessa deve difendere nel suo discorso della sua identità dedicata all'amore dell'uomo anche sino a volte a sperare che la violenza che si manifesta contro di lei possa essere vinta dall'amore. E quindi noi dobbiamo aiutare la donna a ritrovare questa identità profonda che è il suo ideale angelico anche oltre che di materno. Ma è su questo che oggi il nostro valore di Capodarco può dare un apporto perché la Madonna vive sotto la croce la sua dimensione di maternità di madre vittima. Vittima del dolore del figlio per cui noi siamo diventati figli suoi attraverso il dolore del figlio. E' su questo che noi con il nostro lavoro con gli ammarginati siamo capaci di aiutare l'uomo a accogliere il valore del dolore dell'umanità come la Madonna lo porta. Anche oggi il suo pianto che tante volte si manifesta anche nel pianto del sangue è il segno che la maternità oltre l'angelicità che lei aveva come sposa di Dio la Madonna e la Madonna ne è esemplare con la sua valore, ho detto, del cuore dell'amore per sempre che dà all'uomo anche quando è perverso, però c'è anche quest'altro valore del suo dolore che è l'invito a ritrovare anche attraverso la dedizione ai più poveri il dolore degli uomini perché se gli uomini persistono nell'egoismo, nella violenza, nell'orgoglio, nella superbia e non si danno da fare per gli ultimi questo senso di quest'altro valore della madre vittima che è la Madonna e che è l'esemplarità di cui il dolore deve essere vinto però nella lotta contro di esso perché la speranza di cui i giovani hanno bisogno parte dal discorso che dobbiamo sostenere che i giovani si indignano nei riguardi dei mali che l'uomo patisce ed è il valore educativo che dobbiamo darci.